Musica E' come qui ragazzi, siamo tornati su Om... Sì, su Omnase, un bot... Siamo su penumbre, ho scoperto che questo tubo... Si rompe E questo andava messo qui come pensavo Sono un genio Cioè, ditemelo, sono un genio Aperti porta Buongiorno C'è Inishu Perché non andare a destra? Oh cazzo Allora, ci conviene fare una cosa qui Prendiamo una scatola E distraiamo lo stronzone Funzionato? No Andiamo ad un'altra scatola, allora E cerchiamo di distrarre lo stronzone Funzionato stavolta Oh, se n'è andato Elu Un pulsante Oh cazzo, perché c'è la muschetta di... Oh cazzo Via, via, via Questa zona verrà bloccata Sanno che sono quelli sicuri Dottorio, un modo per fermarli Eh beh Direi anche Buongiorno Che brutto posto, minchia Questo sì che è un posto horror Non ho idea di cosa siamo Infernire i brividi E beh Farebbe pure anche a me Una roba del genere Una telecamera Bello Telecamera Questa cos'è? Chiuso Qua non c'è nulla Lì è la... Mmm No No Mai Non voglio morire scimmia Eh, chi cavolo è che vorrebbe morire a sto posto? Come si apre quella porta? E dov'è finita la porta? Eccola qui Yeah Non dobbiamo essere sgamati Questo qua è abbastanza ovvio ormai Andiamo a giocare in stile stealth Oh cavolo Pensavo di essere sgamato da quella Ok, posto Yeah Oh cavolo Attenzione alle telecamere Bro Attenzione alle telecamere Oh cavolo Telecamere Per un passetto Venevo sgamato E siamo a due leve tirate Siamo sotto la Sì però Nuova batteria Vai Aspetta Cosa? Cosa? Cosa c'è che non va? Ma che? Ma che? Che diamo ne succede? Oddio santemo Cos'è quel cos'è quel coso? Oh cazzo Di letto c'è un mostro Oh merda Sono morto Ahia La morte Il regno dell'ignoto E come devo fare lì? Come che dovrei barricarmi? Se mi barrico qui Cosa devo fare? Giuro questa manopola Ok salviamo un secondo Anche se non credo Che fosse stata Sia stata una buona idea Mi svolta Questa è l'emergenza Attiva l'ultima Sì Reattiva Si tratta di un caso Di un emergenza? Sì Sto per essere stuprato Stai dicendo la verità? Eh Sì Mi stanno per stuprare Bene Ecco Esatto tu Un emergenza Eh No Il mio culo È un'emergenza Metaforica Letterale La prima potrebbe Ad esempio Che cazzo Le domande sono? Mostri che nemmeno E con se che Seccaggio Ecco E Letterale Mostri che vogliono stuprarmi Eccellente Il tuo scenario Sordiso le connessioni necessarie Per attivare il protocollo Sui connessi di emergenza Vuoi attivarlo? Ho già detto Sì Scusa Al momento è complesso Il stato di emergenza Il protocollo di sicurezza di emergenza Non può essere attivato Torna Il protocollo di sicurezza di emergenza Attiva l'ultima Mi sono riferita Per Sì Il cazzo di emergenza Sì Stai dicendo la verità? Sì Bene Cazzo tutto l'emergenza Sì Lo scenario non corrisponde Alle connessioni richieste Del protocollo di sicurezza di emergenza Ma vai fa in culo Come cazzo faccio? Ci sono dei stupatori seriali lì Viva Sto per essere stuprato Ma come devo fare? Cioè Cerco di attivare l'arma di emergenza Ma non me la fa fare Quindi Recipiente Ci sarà qualcos'altro qua intorno? Ok Mentre mi sono barricato Uh Un artefatto Batterie E cose Ok Proviamo a prendere qualcosa Che magari mi serve Ma no Che cazzo Ma che cavolo fa? Allora Con calma Ce la fai a prendere qualcosa Sto stronzo Sto stronzo Sì ma Ma che cazzo sta succedendo? Non ci sto capendo più un cazzo Posso essere sincero Qualcosa si sta baggando? E il mouse si è bloccato Sì ok mostri Non vi aprirò mai Lo sapete però Allora Porca Puttana Qua mi sta Allaggando a bestia Vedete Mi stanno andando Fpx Bassissimi Che demine sta succedendo? Allora Ce la facciamo? Dai Torna normale Gioco Porca puttana Milagga a bestia Beh Devo arrivare lì Giusto il codo Quindi Lasciamola andare No Dimmi che Madonna Che precisino Devo lasciarlo perfettamente sopra Che rompi palle Dai Prendi il coso Do Il coperco è chiuso Manca qualcosa E che cosa deve mancare? Recipiente Recipiente Sì Manca il recipiente To Fatto Ecco la sostanza Maglio trovare un modo Per andarmi da qui Non posso tornare Da stare in cui sono venuto Ok 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 Qua c'è un coso Qua c'è robetta Detto troione Mi chiami sempre Scimmia E devo considerarti Non pene per il culo Ok Ce l'abbiamo fatta Quindi possiamo anche salvare Almeno fino a qui Siamo a posto So che gli ultimi minuti Non sono stato molto simpatico Ne ho detto qualcosa di molto divertente Ma la situazione Non è delle migliori Quindi Ok Ho aperto Termine previsto tra due minuti Oh cazzo Oh cazzo Oh merda Oh my fucking god Oh che cavolo è successo Oh leva Ok Non so perché l'ho girata E cosa è cambiato Ma L'ho girata Ma che diamine sta succedendo Aiuto La porca puttana Oh Sono fuggito Ok Salviamo un secondo Ah non posso Vabbè Me ne vado Grazie alla sostanza Mancava poco Liberamente la malattia Dopodichè speravo Di entrare in contatto Con la mente di Tundra Anche mi vado Dove scoprire cosa gli Aveva detto Per fargli annunciare Il suo progetto ultimo Sì Esatto Esatto No Mai Oh Aiuto Che succede Sono mezz'ora incoglionito Oh merda Oh merda Stupratore seriale In seguimento Non in questo momento Che sono mezz'ora incoglionito Porca puttana Non adesso Non lo stupratore seriale adesso Non è possibile Dai cazzo Poi adesso deve arrivare Lo stupratore seriale Ma porca puttana Non riesco a Muovermi Dove devo andare Dove devo andare Andiamo di qua Basta che entri in qualche stanza Anche questa vabbè Ma che cazzo Ma che cazzo Che demone succede No lo stupratore seriale Ma va Mona Non è possibile Ma che La porta si è rotta Non si sposta E non vedo un cazzo Non si sposta Andiamo di qua Ma qua Non c'è niente Come è possibile Oh ragazzi Mi prendete per il culo Ok sono arrivato Oh ce l'ho fatta Ho raggiunto una stanza Ma sono ancora mezzo Pringostar Allora Qui siamo Enda della linea No Buongiorno No Grazie per i lavori Clarence Niente Solo una potenza E una grande fatta Scrovi Buoni Tanti Esatto Non vi pare funzioni E ora cosa devo fare E' chiusa Adesso c'è un altro modo Per entrare nei condotti No non va Si può romperlo No Non si rompe Baffangulo Qua non funziona Qua la porta è chiusa Eeeh Vabbè Dai Salviamo per ora Abbiamo avuto abbastanza Problemi in questa parte Tra cui Lag assurdo Cose incomprensibili Piselloni che mi inseguono Eccetera eccetera Quindi è la prossima parte Di penumbra gente Bye bye Che figo Luce Lol No Non No No Grazie.